21 gennaio del 44 Guaglia Lane, Beachhead Ragazzi benvenuti su Easy Red 2 Cos'è Easy Red 2? Un giochino che mi ricorda molto Enlisted Visto che comunque si tratta di essere Member di una squadra In questo caso giochiamo con gli NPC Però c'è anche il multiplayer e penso funzioni come Enlisted Ovvero ogni giocatore ha una squadra da comandare Cose di questo tipo Comunque ci sono varie mappe, ci sono anche gli italiani In alcune mappe, qui invece stiamo dipendendo L'isola è da tutto il giapponese Cose di questo tipo Noi siamo i giapponesi e dobbiamo rispiggere gli americani Proviamo subito una posizione decente Per piazzare la miteletrice Uh, eccoli Mamma mia Continuano a sbaccare in modo Ok Questo gioco non è male, devo dire Per essere un Indigo, per 8 euro Diciamo, sai il fatto suo Ok, riguardiamo Stiamo ammazzando un bel po', quindi da qui non passano Ho messo anche il numero di unità alto Nelle impostazioni per avere battaglie un po' più Gloriose e cose di questo tipo Quello è morto Ottimo Potremmo anche stenderci qui Vedo che alcuni americani stanno avanzando in quella direzione Oddio, c'è anche il bombardamento da male Ed è anche vero, non è soltanto una roba visiva Ok Bene Qui non ne vedo altri Quello è un alleato? Sei un alleato tu? Sì, sei un alleato Perfetto Qua non vedo altri nemici Magari stanno sbarcando un'altra volta Ecco, sta arrivando un mezzo da sbaracco proprio adesso Quindi ci conviene Ma porca miseria Mi conviene attendere Ah, alcuni sono sbarcati già Ricarichiamo Ah, maledizione Volevo beccarli nel momento Di discesa, diciamo Dello sbarco Purtroppo questa mentalità di switch Non è male Però ha pochi caricatori Poi più pochi progetti nel caricatore E quindi non riusciamo a tenere Mantenere la soppressione per troppo tempo Aglia, di mortacci i vostri Sono la benda che è meglio Mi sa che abbiamo anche poche munizioni adesso Possiamo anche aprire l'inventario E vedere quante munizioni abbiamo Ah, è l'ultimo caricatore Meno male che ho controllato Sì, è l'ultimo purtroppo Dovremmo avere qualcosa tipo munizioni Cose di questo tipo Vediamo Ah Come facciamo a droppare questa? Così? Rifornisciti Oh, perfetto No Non c'è anche nada Sono stupido Dimmi che è uscita, ti prego Oddio Come l'ho detto Utilizziamo l'SMG Vediamo di Ah, bello Bello scendere il soldato Con l'arma a scarica Fa molto piacere Madonna mia Che macello Cerchiamo di metterci dentro Un bunker Uh, qua c'è una metatrice fissa Sì, ti prego Posso utilizzarla In qualche modo Stare sul veicolo Oh là Ottimo Qua non so dove siano Non vedo nulla Che casino Bello scendere il soldato Bevati Qui stanno caricando Come dei cinghiali Ma qui non si vede Non c'ho feca Bisogna spostarci In qualche modo Ma qui l'ho presa Pagliamentate Che sta succedendo Posso dire un garante Da queste parti Dove sta? Erano dietro le nostre linee E ce ne sono ancora E quello è bello Ricarichiamo Poi usiamo la band E velocità Uh, quello è un medico nemico Ok, a terra Per fortuna Questa è buono Invincibile Iron Man Uh, uh, uh No, stavo non c'è una granata Non mi sono inginocchiato in tempo Io direi di prendere il mitragliere L'aereo magari lo vediamo In un'altra partita Per adesso rimaniamo panteria Andiamo a difendere Che stanno conquistando il punto Purtroppo C'erano ancora 71 nemici Da ammazzare per vincere Però mi sa che abbiamo perso Più tutto Ora diamo un occhio In velocità Se riusciamo ad arrivare lì in tempo Anche se forse Lo stiamo tenendo E le rocce Che non ti fanno passare Prendiamoci qui Magari abbiamo una buona Visuale sul nemico Sì Ottimo Bella smitragliata Fantastico Ricarichiamo Oddio bombardamenti Ti prego no Ok Purtroppo abbiamo perso il punto Bisogna ripiegare E difendere l'altro Ok via 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 Vieni fuori Vieni fuori Ottimo Sto infamone Sta smitragliando Mezzo Giappone Fuggiamo che è meglio Qua c'è da ripiegare e basta Benda 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 Qua c'abbiamo delle trincee Vediamo delle trincee È meglio Via 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 Ok potremmo piazzarci qua Effettivamente sembra una buona posizione Un po' esposta forse no E ti pareva che questi sono un proiettile nel caricatore Banzai Banzai Sì Banzai Oddio Poi si veramente fanno un banzai con le bionette Sono pazzini Ok Duttiamo a terra La famosissima Cassa per le munizioni Per favore gioco Lascia oggetto Grazie Difurnisciti Bene Metti l'inventario C'è anche la terza persona Non è proprio il massimo Quindi manteniamo la prima Aia Aia Oh il lanciafiamme Il lanciafiamme mi mancava Maizione Bene abbiamo preso il fuciliere Con il nostro bellissimo Arisaka Uno dei miei fucili preferiti Oddio Fai già pieno 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 Quello è alleato Non lo so Sono alleati questi Non si capisce Mi sa che sono Tutti è alleato Tutti qua questi uniformi Maizione Che mangia Ma È un casino Spero venne fatti fuori Con la granata almeno Quindi eccoci con mitragliella Che stavamo facendo famiglia Prendiamo il mitragliere Questa casettina Quasi interessante La capanna Per rientracci Ci vuole Di da di dio Mi sa di sì Uh a terra Grazie a nata Ne abbiamo Mangia Aia È incredibile Bisogna stare A riparo Più di quanto pensassi Dio Dio Poi Sopressione Allucinante Aia Mutiamoci Quest'albero ci salverà la vita Non sono certo Anche se Continuiamo a sanguinare Addio Kachi Shinohara È stato un piacere Servire con te Ok Da qui Potremmo avere Una buona posizione Ditta la roccia Sento un aereo Ah sì Ci sono gli aereo Infatti Era un nemico Purtroppo Ricarico Stavamo andando in campo aperto Per ora Ah dio Questi interatici Con 30 colpi Una bomba Ma non ne ho Non ho parole Magari se inseriamo il caricatore Lo vedo un cazzo Ok ottimo Ce l'abbiamo fatta? Oh sì Ce l'abbiamo fatta No Niente prigionieri No non prendete esempio Non volevo Oddio L'intensità assurda Di questo gioco Di questo gioco No don't Per sempre Niente prigionieri Anche Qu diğer Niñeri L'intensità assurda Og bizi L'intensità assurda Di questo gioco ori Lo